Musica Prosegue il percorso di riqualificazione dell'ex mercatino rionale di Sant'Anna di Palazzo. Questa mattina il sindaco Luigi De Magistris, con l'assessore giovane al patrimonio Alessandra Clemente, hanno fatto visita agli studenti dell'Istituto per Geometri della Porta Porzio, protagonisti del progetto E Adesso, promosso da ACEN, INAIL, Ispettorato del Lavoro e il Collegio dei Geometri della provincia di Napoli. Dopo l'attività di bonifica che abbiamo fatto con Napoli Servizi, in particolare con Asia, adesso si deciderà insieme al quartiere come metterla nel più breve tempo possibile a disposizione della popolazione. L'idea potrebbe essere quella di coniugare attività artigianali locali, commercio, botteghe, con cultura, quindi musica, intrattenimento. Questo va nell'idea di una valorizzazione sempre di più non solo del patrimonio immobiliare, ma in questo caso dei quartieri spagnoli, su cui anche ci sono progetti importanti sulla vivibilità e la pedonalizzazione di aree importanti di questa zona. Quindi ancora una volta un modello di democrazia partecipativa. E poi ci tengo a dire che abbiamo evitato che questo luogo, che è un modello di architettura contemporanea, potesse essere svenduto e quindi diventare obiettivo magari anche di speculazioni. Il recupero della struttura neorazionalista è iniziato con la bonifica dell'area e proseguirà con il coinvolgimento dei residenti del quartiere, chiamati ad avanzare le proprie idee sulla destinazione d'uso del complesso. 22 giorni di lavoro non stop a cura dei lavoratori del Comune di Napoli, la Napoli Servizi, la SIA, la Polizia Locale, il Servizio Autoparche e Logistica per bonificare questo luogo. E darci appuntamento sabato 2 febbraio alle 10.30 per un'assemblea di quartiere, perché adesso sarà la città a decidere quale sarà il presente di questo luogo. Un luogo che abbiamo voluto che ritornasse delle napoletane e dei napoletani, non abbiamo consentito la vendita di questo pezzo importante del patrimonio comunale e oggi come assessore giovani e al patrimonio festeggiamo non soltanto un primo mese di lavoro meraviglioso che ha visto gli studenti protagonisti, ma soprattutto l'apertura di una fase alla quale invitiamo tutta la cittadinanza a prendere parte.